Al Palasport di Andria è tutto pronto. Oggi un evento importante per tutta la Chiesa di Puglia e non solo. L'ordinazione episcopale di Monsignor Luigi Renna ha chiamato a guidare la diocesi di Cerignola Ascoli Satriano. Edificare nella carità è il motto episcopale scelto da Monsignor Renna. Vediamo. Oggi è una giornata importante per la diocesi di Andria Canosa Minervino e per quella di Cerignola Ascoli Satriano. È un evento per tutta la Chiesa, l'ordinazione episcopale di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna e tutta la Chiesa si raccoglie in preghiera per lui. Nel Palasport di Andria è la solenne concelebrazione presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolite di Bari, consacranti Sua Eccellenza Monsignor Raffaele Calabro, Vescovo di Andria e Sua Eccellenza Monsignor Felice di Molfetta, amministratore apostolico di Cerignola Ascoli Satriano. Presenti anche il Cardinal Salvatore De Giorgi, Arcivescovo Emerito di Palermo, il Cardinal Francesco Monterisi, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura. Si attendono i Vescovi però di tutte le diocesi di Puglia e di Sua Eccellenza Monsignor Nunzio Galantino, segretario della Conferenza Episcopale Italiana e di Sua Eccellenza Monsignor Agostino Superbo, amministratore apostolico di Potenza, nonché di altri Vescovi provenienti da diverse diocesi. Con le autorità religiose è prevista anche la presenza di numerose autorità civili e militari. Hanno annunciato la propria presenza infatti i sindaci di Andria, Canosa, Minervino e dei nove comuni della diocesi di Cerignola. Numerosa la presenza di sacerdoti, religiosi, diaconi, seminaristi e fedeli laici appartenenti non solo alla diocesi di Andria e Cerignola, ma anche ad altre diocesi pugliesi. Si tratta dunque di un evento importante per l'intera comunità ecclesiale civile che manca nella città di Andria da lontano 1938, quando fu Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Ruotolo ad essere ordinato Vescovo presso la chiesa di San Nicola. Lo stemma episcopale, fatto realizzare da Don Luigi Reina, esprime bene il suo programma di vita e di servizio. Nella parte inferiore c'è una corona di spine, il ricordo della reliquia della Sacra Spina conservata nella Cattedrale di Andria, di cui quest'anno si celebra il Giubileo unitamente a quello universale della Misericordia. La presenza nello stemma della corona di spine è un richiamo alla centralità del mistero pasquale, ma indica anche l'intento del Vescovo eletto di condividere le spine che oggi fanno soffrire tanti fratelli. Dalla corona di spine si leva un ramo che fiorisce un melograno, frutto che richiama la carità e per la modalità compatta con cui sono disposti i chicchi al suo interno, la comunione ecclesiale che Don Luigi è chiamato a servire. La banda trasversale con tre stelle è una memoria di Maria, madre di Cristo e della Chiesa. Le tre stelle sono un ricordo della sua verginità e quindi dell'opera di Dio in lei. Il motto scelto da Monsignor Renna, edificare nella carità.